Oh, sì, che bello! Sì, 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 sì! Eh? Che succede? Ehi, Jason, guarda che cosa ho trovato qui! Ehi, Alex, posso avere una spada, per favore? Ma certo, ecco qua! Grazie mille! Ehi, Jason, che succede? Non lo so, forse sono solamente dei rumori? Oh, no! Usciamo di qui, Jason, forza! Hai visto, Jason? Ci stanno correndo contro! Scappati là, forza! Jason, che dobbiamo fare? Dobbiamo creare una recinzione! Ok, sei pronto? Uno, due, tre, via! Ok, veloce! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Spostati un po' indietro! Uno, due... Ottimo lavoro, Jason! Scendiamo al piano di sotto, ok? Va bene, ma non è che ci sono più mostri lì sotto? Ma dovremmo scoprirlo, Jason, andiamo! Vedi qualcosa all'orizzonte? No! Allora, andiamo, dai! Andiamo, nascondiamoci qui, veloce! Ok, ok, andiamo, forza! Mettiti qui adesso! Ok, vai veloce, dai! Oh no, altri mostri! Costruiamo! Più veloce, più veloce! Molto bene! Penso che ora siamo al sicuro! Certo che siamo al sicuro! Ma cos'è questo rumore, però? Oh no! Il muro! Stanno cercando di rompere il muro! Scappiamo! Scappa, scappa! Oh no! Ok, e adesso che facciamo? Ci servirebbe un piccone! Ok! Jason, prendi il piccone, forza! Oh wow! Adesso ho un piccone! Creiamo insieme un po' di lava adesso! Sì, vai! Alex, guarda quanta lava! Chi c'è adesso? Ottimo lavoro! Adesso sì che potremo sconfiggerli! Così moriranno tutti cadendo nella lava! Guarda come cadono uno a uno nella lava! Guarda che stupidini! Abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro, Jason! Alex, ne stanno arrivando ancora un paio! Tranquillo, userò l'arco! Toh! 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 Ne ho uccisi tre! Adesso vai tu! Oh! Sì! Sì! Li abbiamo uccisi tutti! Siamo davvero dei giocatori d'assalto, noi due! Ma adesso, come facciamo a uscire di qui, però? Tranquillo, ho preso una borraccia! Psss! Wow! Ora possiamo uscire, che bello! È stato fantastico! Che bello, sì! Ciao ragazzi! Grazie per aver guardato i vlog di Jason! Iscrivetevi subito al canale! Bro, siamo troppo cool! Sì, è vero! Very cool! Ehi, bella banana, bro! Sì, bella banana! E la getterò proprio per terra! Molto bene! Sei pronto a partire, Jason? Sì, certo che sono pronto! Una banana! Alex, stai bene? Aiutami, per favore! Ehi, perché state ridendo di me? Alex, guarda quell'auto! Ha le ruote quadrate! Non ci credo! È vero! Ha entrambe le ruote quadrate! Che ridere! Scusa? Che cosa hai detto nella mia macchina? Forza, prendiamoli! Cosa? Alex, arrivano! Cosa? Jason, scappiamo! Di là, forza! Forza, prendiamoli! Stanno arrivando! Jason, scappa dentro! Alex, dove andiamo adesso? Andiamo di là, forza! Ehi, dove sono andati secondo te? Secondo me sono andati sicuramente di sopra! Bene, andiamo a controllare! Forza, corri Jason, gira di qua! Corri, corri, veloce! Corriamo veloce, forza! Dove ci nascondiamo, dove? Io potrei nascondermi qui dentro! Vai, vai, Jason, nasconditi dentro, forza! Io mi nasconderò proprio dietro al divano, invece! Dove sono? Andiamo a cercarli dentro la stanza! Saranno sicuramente qui dentro! Non c'è nessuno qui! Ok, usciamo, forza! Se ne sono andati, Jason! Alzati, forza! Meno male, ragazzi! Jason, che facciamo ora? Alex, dobbiamo scendere a prendere le spade! È una grandissima idea! Forza, scendiamo! Ah, scappiamo, Alex! Scappiamo, Alex! Scappiamo, scappiamo! Prendi la spada, Jason! Ok, le spade sono qui! Quale prendi? Io prenderò questa! E io invece quale prendo? Prendi questa, sarà forte! Sì, sarà fortissima! Ora andiamo! Tu ti nascondi lì e io qui! Jason, stanno arrivando! Tre, due, uno, vai! Sì, ce l'abbiamo fatta! Sì, l'abbiamo preso! Ottimo lavoro, Jason! Prendi un'altra spada! Tu prendi quella, io prenderò questa! Alex, dove ci nascondiamo? Eh, forse, dietro le piante, che dici? Ottima idea, Alex! Arriva, stai attento! Colpiscilo adesso! Ottimo lavoro, Jason! Yeah! E ora andiamo di là, forza! Ciao ragazzi! E grazie per aver guardato i video di Jason Vlogs! Iscrivetevi al mio canale! Ciao ragazzi! Ma ciao ragazzi! Sapete a che cosa giocheremo oggi di bello? A nascondino! Uno, due, tre! Ok ragazzi, ho dieci secondi per nascondermi! Ma dove mi nascondo? Da questa parte? Nel bagno? No, non nel bagno! Jason non può trovarmi qui dentro! Nove e dieci! Riuscirò a trovare Alex! Si è nascosto qui! Non è qui! Ma forse Alex si trova... Qui! Dimmelo! No! So dove sei! Arriva Jason! Mi troverà, lo so! Ho un'idea! Userò questo e Jason non mi troverà! Dov'è finito? Sarà nel bagno per caso? No! È qui dentro! Sì! Ehi, un cagnolino! Non era Alex! E invece ero io! Ok, andiamo su adesso! Andiamo lì dentro, nel bagno! Ok, mi nasconderò qui dentro! Qui non c'è Alex! Ma potrei provare proprio qui di sopra! Oh, Jason si sta avvicinando! Ok, ok! Ah, Jason non mi riconoscerà! Aspetta, è nella mia stanza! No! È qui dentro! Era un vicino! Ero io, ragazzi! Oh, mi hai trovato! E mi hai trovato velocemente! In soli due minuti! Adesso tocca a te e nasconderti! Forza! Uno, due, tre! Devo trovare dove nascondermi! Forse qui dentro? Questo è il posto migliore in assoluto! Non mi troverà mai qui! Nove e dieci! Ok, troviamo Jason! Penso che sia lì! No, non credo! Non è qui! Cavolo! Andiamo in un'altra stanza! Jason! Dove sei? Jason! Dove sei? Cavolo, cavolo! Dov'è Jason, ragazzi? Non riesco a trovarlo! Ma forse è qui! Jason! Dove sei, Jason? Oh no! Sta arrivando proprio qui! Mi camufferò, ragazzi! Ehi, ho dimenticato un posto! La stanza dei giocattoli! Sarà lì dentro sicuramente! Ok! Buongiorno! Mi scusi, sa dove è Jason? Per caso? No! Allora deve essere lì! Jason non è qui! E allora dov'è finito? Jason! Dove sei? Forse sei qui dentro? Che cosa? Una pentola bollente! Non toccatela, ragazzi! Sono stato io! Conosco il posto migliore di tutti! Farò finta di essere un bellissimo gatto, ragazzi! Forse è da quella parte! Jason, dove sei? Jason! Forse è fuori! Ehi, ci sono due gatti! Un gatto e due gatti! Credo che sia un nuovo gatto! Non sono riuscito a trovare Jason! Il tempo è scaduto! Mi sa che ha di nuovo vinto lui! Wow! Che cosa? Ero il gatto nuovo! Non ci credo che eri tu! Pensavo fossi un gatto vero! Era una maschera! Wow! Beh, i due minuti sono finiti! Hai vinto tu, Jason! Sì! Andiamo in moto! Andiamo forza! Let's go! Jason, hai vinto un premio! Ecco la moto! Divertiti! Ciao, ragazzi! È stato molto divertente! Ciao, ciao, ragazzi! Alla prossima!